Ciao a tutti, sono Simo 16bit, nel video di oggi facciamo due passi nel comune di Sovere, in provincia di Bergamo, la temperatura attuale è di circa 2 gradi, facciamo due passi, andiamo verso il santuario della Madonna della Torre e vediamo se c'è una cascata, se è ghiacciata, che a volte quando queste temperature, dato che qua la temperatura di notte scende anche sotto meno 10 gradi, vediamo se è ghiacciato. Capretta con Covid. Sanità. Sinistra. Santuario Madonna della Torre, questo è. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Noi invece continuiamo di qua, che tra poco dovrebbe esserci la cascata. Eccolo qui la cascata che stiamo avvicinando, purtroppo da qualche vedo non è ghiacciata. A volte l'inverno ghiaccia e si crea praticamente una serie di uno stallattite, diciamo. Vediamo. Allora, attenti alla balena. Eccola qua, una cascatella, purtroppo non è ghiacciata, nonostante ci siano due gradi in questo momento. E ho una mano congelata. E qua invece, protezione civile è sovra, l'aiuto. diciamo che c'è una sorta di omino qua, di uomo, con sotto delle mani. Eccola. 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 La cascata di sopra. Ora si ritorna. Anche perché mi devo muovere, altrimenti qua congelo. Guardate che stradina stretta. Non so se si vede, ma qua una macchina ci passa pelo. Bello. Natalizio. Si vogliamo. Devega. Grazie a tutti. 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 Complimenti all'artista. Altri murales. Questo è bello, significativo. Zero mi piace, Facebook, YouTube... Bello. Mi sposto un po' se riesco a prenderli meglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.